Oggi è venerdì 3 settembre, buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa, il commento alla stampa del giorno su Fano TV, canale 17 del digitale terrestre che come tutte le mattine dal lunedì a sabato vi dà la possibilità di sfogliare i titoli delle pagine dei giornali che abbiamo selezionato questa mattina, lo faremo tra un istante, adesso andiamo subito a vedere il santo del giorno e poi le previsioni del tempo, oggi è San Gregorio Magno, il sole è sorto alle 6.35 e tramonterà alle 19.42 e adesso diamo uno sguardo al tempo. Nella giornata di oggi avremo cielo poco nuvoloso in mattinata con aumento della copertura nel pomeriggio, specie nelle zone interne, le temperature sono in lieve diminuzione quelle minime, stazionari oppure in lieve aumento quelle massime, avremo anche pochettino di vento ma di debole intensità, il problema è domani, domani sabato 4 settembre come vedete dal bollettino della protezione civile delle Marche, il cielo sarà nuvoloso con precipitazioni probabili nel centro-sud della regione, nelle zone interne ma anche lì ci saranno anche caratteri di rovescio temporale, l'attenuazione dei fenomeni in serata con qualche piovasco ancora nel settore interno meridionale, ma come vedete anche la costa, Anconetana, San Benedettese sarà interessata da questo maltempo anche se con ampie schiarite poi nel corso della giornata. Domenica 5 invece il tempo si presenterà soleggiato al centro-nord con qualche nuvoletta e un po' di più nel sud della nostra regione, tempo stabile anche la prossima settimana, nei prossimi giorni. Allora dalle previsioni del tempo andiamo direttamente sulla spiaggia, sono ormai queste le ultime battute, andiamo dalla nostra Nicoletta nella spiaggia di San Benedetto del Tronto, buongiorno Nicoletta e vedo che lì effettivamente splende un bel sole. Allora come va oggi, come sarà questa giornata, l'abbiamo appena vista, domani confermi che ci sarà la pioggia? Sì, io spero di sbagliarmi però dicono di sì. Senti, allora abbiamo già detto ai nostri telespettatori che il tuo stabilimento che si trova appunto sulla splendida riviera delle Palme è tutto esaurito anche questa settimana, ma è chiaro che vi state preparando per mettere diciamo al riparo un po' tutta la vostra attrezzatura, ci fai rivedere un po' la spiaggia, ci fai rivedere un po' mentre parli, ci fai rivedere un pochettino il posto in cui ti trovi, guardate che bello, ecco qua. Sì, allora c'è il sole ancora, si giro. Ecco, questo è il tuo stabilimento che lo ricordiamo si chiama? Sì, il mio stabilimento Balneare, sì, in pratica adesso piano piano sistemiamo le cose, iniziamo a lavare le prime cose, bisogna portare via, lavare, disinfettare perché la salterina ne fa rovina tutto, quindi non lasciamo niente di spiaggia, né all'interno dello stabilimento, abbiamo un magazzino qui vicino, portiamo tutto via, per poi ricominciare un altro anno, quindi per un mesetto ne abbiamo da fare, mesetto, mesetto e mezzo. Parlare di rimettere a posto le cose è un po' malinconico quando si tratta di spiaggia, però questo è, insomma, anche il mare d'inverno ha il suo fascino, eh, comunque. È bellissimo, come no? È anche romantico. Posso farti una domanda, voi che lavorate tutta l'estate al mare, eccetera, vi concedete magari una vacanza e dove? In montagna, spero. Allora, guarda, per adesso no, perché ho i bambini che iniziano la scuola, quindi è impossibile, magari sotto Natale, ma qualche giorno, ce lo sa, adesso con il Covid non è, cioè ci chiudono, ci aprono, quindi sono un paio d'anni che non andiamo a nessuna parte, però noi siamo andati al mare e il mare ci piace. Ah, quindi continuate ad andare al mare, volendo, da qualche parte in giro per il mondo, ma al mare. Sì, al mare. Va bene, allora, grazie Nicoletta, ci vediamo domani mattina, sempre a quest'ora. Grazie a tutti voi. Sempre a quest'ora per l'ultimo collegamento. Allora, adesso noi, come i nostri tantissimi telespettatori sanno, dico tantissimi perché in questi giorni abbiamo la prova, noi non abbiamo l'auditel, sapete, non siamo certificati con l'auditel, quindi quando mi chiedono ma come fai a sapere quanta gente ti guarda ed è sintonizzata sul canale 17? Beh, io dico, guarda, noi abbiamo un rapporto da 15 anni a questa parte molto stretto con i nostri telespettatori, anche adesso che ci siamo allargati, quindi copriamo tutte le marche, soprattutto quando parliamo di momenti di preghiera dove effettivamente, ecco, chiamano soprattutto per quello del pomeriggio delle tre tante persone da tutta la regione, no, per le intenzioni di preghiera. Ebbene, io rispondo, il nostro auditel sono le telefonate, i messaggi, eccetera, eccetera. E devo dire che in questi giorni dove chiaramente si parla, in particolare in rassegna stampa, si parla di vaccini, di Covid e quant'altro, anche per l'argomento trattato c'è molta gente che ci dice la sua. Potete ben immaginare, alcuni sono favorevoli, altri sono contrari. Ieri, per esempio, si è scatenato il putiferio, io pensavo più per il vaccino che peraltro. Invece molti hanno contestato l'errore che ho commesso quando ho parlato di Letta, Gianni Letta, Enrico Letta, scusate, del PD, dicendo che il PD aveva perso le elezioni, invece le ha vinte, di qua e di là. Beh, è chiaro che stato l'Apsus, intendevo che il centrodestra avesse vinto, chiaramente aveva vinto, aveva vinto, aveva vinto le elezioni, insomma, poi quando si parla in diretta qualche errore scappa fuori, ma si cerca di evitarlo, ma evidentemente qualche volta può succedere, ma ecco, intendevo il centrodestra che avesse vinto in qualche modo e questo è. Poi, vabbè, tanti messaggi, tante cose, ma questo ne abbiamo già parlato. Allora, questa mattina la nostra segna stampa prevede soltanto in scaletta due prime pagine e poi vi dirò perché. Allora, andiamo a vedere la prima pagina del resto del Carlino. Allora, titolo d'apertura, edizione di Pesaro, restitui mille euro, gli do un lavoro. L'imprenditore offre un posto al disoccupato che riconsegnò un portafoglio pieno di soldi, lui dice si faccia avanti e quindi c'è questo primo, c'è questo lavoro pronto per lui. Poi, Festival di Venezia al Cinema Solaris, il premio Lizzani, tra i primi in Italia a ripartire dopo il Covid e poi a pecchio, morto Don Sante, il prete dei poveri. Andiamo a centropagina invece, centropagina rompicapo Asilinido, Green Pass anche per i genitori, ogni struttura fa a modo suo, mentre a Gabice Mare dietro front sui nuovi arrivi di afghani, dunque non sono previsti nuovi arrivi di profughi afghani nelle Marche da ospitare al Covid Hotel di Gabice Mare. E poi la maestra e prof respinte dalla scuola, una di queste chiama la polizia perché non avevano il certificato verde. La liberazione 77 anni fa, il nostro giorno del ringraziamento, le celebrazioni a Pesaro e poi di taglio basso, VL Cibona, la sfida nel nome di Aza, stasera la finale contro Zagabria con cui coach Petrovic ha vinto praticamente tutto. E poi diga di mercatale, stop all'acqua per irrigare la regione, agricoltore a secco dal 16 settembre, ma è scontro con il consorzio di bonifica. Andiamo a vedere adesso invece il Corriere Adriatico, sempre l'edizione di Pesaro Urbino. Allora, a centropagina, come vedete, la fotonotizia dei camper adibiti a hub mobile, quindi insomma attraverso i quali è possibile fare il vaccino, le tappe del camper all'interno del giornale, i sindaci danno il benvenuto al tour e poi afghani, accoglienza familiare a Chiaserna, siamo vicini a Cantiano, nella provincia di Pesaro Urbino, la metà dei profughi che ha svolto la quarantena a Gabicce, nell'hotel portati regali per i bambini, altri 10 arriveranno nell'Anconetano, revocato il secondo gruppo di 20, ma per le marche forse un contingente di 250. Tra tampone e testa a casa, la ripartenza della scuola, mentre sotto, liberazione Ricci, questo è il valore da difendere oggi, nuovo comandante per i vigili del fuoco, tornato Rampino, sempre a Pesaro, e infine, paradosso in presa, assunzione a rilento, conta il passaparola. Sotto invece, inquinamento, e siamo affano, dell'Arzilla, il sindaco, tolleranza zero, se rianuncia la ricerca di tutti gli scarichi abusivi, pretenderemo i danni da chi danneggia il turismo. Poi centrosinistra unita, pronta la sfida al sindaco uscente, Barbieri, stiamo parlando delle amministrative in programma in quel di Mondolfo. Allora, adesso noi ci salutiamo qua perché i prossimi 17 minuti li dedicheremo ad un servizio realizzato da Massimo Mazzucco. Massimo Mazzucco, nato a Torino il 20 luglio del 1954, se voi andate a vedere su Wikipedia, è un regista e blogger italiano, però definito come attivo sostenitore di diverse teorie del complotto. Ora, non è certo una bellissima presentazione, ma per chi vuole approfondire, in realtà, se volete sapere come la pensa e chi è davvero Massimo Mazzucco, basta che cerchiate su Google l'intervista che ha rilasciato alla rivista Vanity Fair nel 2019. Allora, il titolo di questo intervento che dura circa a 17 minuti è questo, perché un terzo degli italiani non vuole vaccinarsi e del perché la gente non si fida più delle istituzioni. Guardiamola insieme perché, secondo me, fa riflettere, poi ognuno trae le sue conclusioni. Siamo ai primi di settembre e la campagna vaccinale sta rallentando vistosamente. Secondo i dati ufficiali è stato vaccinato quasi il 70% degli italiani, ma da qui in poi sta diventando sempre più difficile convincere i rimanenti a farsi vaccinare. Ormai è evidente per tutti che rimane un solido blocco di italiani adulti che di vaccinarsi non ne vogliono sapere, indipendentemente dalle misure restrittive che verranno adottate. C'è gente che è disposta a perdere il lavoro pur di non farsi vaccinare e quindi di lì non si passa. E siccome questo blocco è molto consistente, perché stiamo parlando del 30% dei vaccinabili, quindi almeno 12-15 milioni di italiani che mancano all'appello, allora i giornalisti cominciano a domandarsi da dove siano uscite tutte queste persone che non si fidano più dei media e delle istituzioni e si domandano cosa si possa fare per ricondurle alla ragione. Un paio di settimane fa Beppe Severnini ha pubblicato un articolo nel quale cercava di capire la mentalità dei Novax. Ovviamente non è venuto a capo di nulla in quell'articolo perché partiva dal presupposto sbagliato, però almeno ci ha provato, ha la volontà di capire, c'era davvero. Idem per la coppia Parenzio e Gregorio sulla 7 o per Veronica Gentili su Rete4 che una sera sì e una sera no, si interrogano su questo strano fenomeno Novax e così tanti altri giornalisti che si pongono questa domanda in totale buona fede. Qui cari giornalisti mi spiace darvi una brutta notizia, ma il motivo principale per cui la gente non si fida più del messaggio istituzionale siete proprio voi. Perché siete voi il tramite di quel messaggio. Il governo sopra decide una certa cosa, ma siete voi che la comunicate al pubblico. Siete voi il filtro fra il governo e la popolazione e se il filtro mente e non racconta esattamente le cose come stanno, la gente se ne accorge e perde la fiducia in voi e quindi nelle istituzioni. Quando un mentana cambia spudolatamente le parole della direttrice del lema facendole dire l'esatto contrario di quello che ha detto, è chiaro che la gente si indigna. E quando poi mentana il giorno dopo si rifiuta di correggere l'errore che gli è stato segnalato da migliaia di persone, la gente deduce che si è in mala fede e che abbia mentito intenzionalmente. E una bugia del genere detta da mentana ha un danno enorme non solo alla sua reputazione, ma a tutta la categoria. Quando Bruno Vespa durante il famoso episodio con Gianni Rivera dice che fra gli anziani non è mai morto nessuno per il vaccino, mentre dai dati ufficiali risultano oltre 7.000 morti dichiarati solo fra Europa e Stati Uniti, è chiaro che la gente si indigna. E quando Bruno Vespa, a cui migliaia di cittadini hanno segnalato gli errori via email, si rifiuta poi ostinatamente di correggerlo, la gente capisce che è in mala fede e che ha mentito intenzionalmente. E così la gente perde fiducia in lui e in tutta la categoria. Quando Milena Gabanelli racconta una bugia clamorosa, definendo come inventata di sana pianta una notizia che invece è vera e facilmente verificabile da chiunque, e poi una volta pizzicata si rifiuta di correggere l'errore, la gente capisce che è in mala fede oppure che è stupidamente orgogliosa e tutta la categoria perde credibilità. Quando voi giornalisti montate una campagna di terrore mediatico basata sul numero quotidiano dei contagiati, mi riferisco all'autunno scorso, alla famosa seconda ondata, ma vi dimenticate regolarmente di dire che il 95% di quei contagiati non si ammalerà mai perché resterà sintomatico? La gente lo capisce che non state dalla parte del cittadino e che state distorcendo le notizie per favorire la paura e la corsa alle vaccinazioni. Quando voi giornalisti usate ripetutamente il termine immunizzato, pur sapendo benissimo che i vaccini attuali non rendono affatto immuni dal contagio, la gente lo capisce che gli state presentando una realtà falsata e quindi perde fiducia in voi. Quando un Presidente del Consiglio dice che chi usa il Green Pass avrà la garanzia di trovarsi fra persone non contagiosi e nessuno di voi ha il coraggio di smentirlo pubblicamente, pur sapendo che ha detto una castroneria enorme, la gente lo capisce che voi siete di parte e non si fida più di voi. La gente non è scema e questa è la piccola parte che vi manca per capire. Voi siete rimasti a vent'anni fa, quando dal teleschermo potevi raccontare tutto quello che volevi e la gente se lo beveva a occhi chiusi. Lo ha detto la tv, si diceva una volta, ma oggi non è più così. Oggi c'è internet. Se Mentana fa dire a Emmer Cook una cosa che non ha mai detto, non ci vuole niente ad andare a prendere la conferenza stampa originale e a smentirlo. Se Vespa dice che non è mai morto nessuno per il vaccino, non ci vuole niente ad andare sui database del virus e dell'Eudra a prendere i dati per smentirlo. Se Gabanelli dice che una ricerca non esiste, ci vogliono 15 secondi cronometrati per andare a trovarla su PubMed e dimostrare a tutti che sta mentendo. Quindi è perfettamente inutile che adesso vi guardiate in giro stupiti per cercare di capire i Novax come se fossero una razza aliena arrivata ad un altro pianeta. Questa razza piena di diffidenza verso di voi e verso le istituzioni l'avete creata voi mentendogli quotidianamente. Questi sono italiani che si informano, che sanno leggere e sanno capire e ogni volta che gli raccontate una bugia loro se la segnano e se la ricordano. Ma poi non ci sono solo le bugie plateali, quelle una tantum, che sono facilmente dimostrabili, come quelle che vi ho raccontato prima. C'è anche l'altra grande bugia, sottile e strisciante, che state raccontando tutti i giorni dall'inizio di quest'anno, che i nuovi vaccini genici siano sicuri e che le reazioni avverse siano rarissime e comunque trascurabili. Questa è la grande bugia che viene ripetuta come un mantra da ogni singolo virologo che invitate in televisione e voi gli permettete di raccontarlo senza mai contestarlo. Ma la gente lo sa che questa è una bugia, perché la gente parla. Parla nei supermercati, parla nei bar, parla dal parrucchiere e si raccontano delle storie orribili. Ha sentito cosa è successo alla figlia del fruttivendolo? Ha fatto il vaccino e l'è venuta una paresi facciale. Il cognato di mio zio ha fatto il vaccino, adesso ha i tremori tutto il corpo. L'amica di mia nuora ha fatto il vaccino, dall'ora ha dei mal di testa terribili e non riesce più a dormire. Questa è la realtà là fuori. Ormai è diventato molto difficile trovare qualcuno che non abbia sentito in prima persona una storia tragica legata alle vaccinazioni. Io stesso ne ho una in casa, proprio in questo momento. Una nostra amica che è venuta a trovarci dalla California. Prima di partire ha fatto il vaccino e dopo un po' l'è esploso un herpes zoster in tutto il corpo, al fuoco di Sant'Antonio, una cosa che non gli era mai venuta prima, non sapeva nemmeno che esistesse. Adesso è di là in casa raggomitolata su se stessa piena di bruciori che non riesce più a dormire. Passa le giornate a piangere, disperata, perché non sa nemmeno quando questo tormento potrà finire. Andate a raccontarlo a lei che le reazioni avverse sono rarissime e che rappresentano solo lo 0,01% a livello mondiale. Sai cosa gliene frega a lei delle percentuali? Lei fino a ieri stava benissimo, era venuta in Italia per farci una bella vacanza e invece ha passato un mese a letto piena di dolori, maledicendo il giorno in cui ha fatto il vaccino. E quando la gente non parla di persona comunica quei messaggini che girano dappertutto. Io stesso ne ricevo almeno 10 alla settimana. Guardate, questo è l'ultimo che mi è arrivato. Buongiorno, le segnalo che ho avuto conferma su reazione avversa da vaccino, moglie di mio cliente ricoverate per miocardite, ora deve andare tutte le settimane a fare controlli in ospedale. Di questi ne girano migliaia ormai ogni giorno e non si possono fermare. E poi c'è la rete, che è piena zeppa di storie tragiche come queste. Ci sono ormai dozzine di pagine in rete che raccolgono le storie orribili che succedono a chi si vaccina. Guardate questa, è una pagina aperta di recente da Gianluigi Paragone. Leggiamo qualche commento. Perdite di udito e sensibilità alla faccia come se fosse addormentata. Chiazza rossa del seno con pus. Forti dolori al petto e schiena. Gli è stata diagnosticata pericardite. Sono due mesi e non è ancora guarito. Tremolio diffuso in tutto il corpo. Difficoltà respiratorie, pallore, pupille dilatate, estremità freddissime. Visita neurologica e risonanza magnetica d'urgenza in attesa di ulteriore elettroencefalo. Miocardite, infarto operato d'urgenza con sostituzione di due valvole. Ictus leggero, forte anemia. Era una persona in ottime condizioni di salute, ora è un relitto umano. Un vero calvario, danni al cuore e ai polmoni. Rigonfiamenti al collo e al linguine destro, linfonodite. Poi mi è uscita una paresi facciale clinicamente ufficiale. Dopo 16 giorni in di ospedale non sto migliorando per niente. Mio pericardite acuta, 6 giorni di terapia intensiva. Segnalazione di correlazione fra mio pericardite e vaccino Pfizer? Il medico mi dice che ne stanno vedendo tantissimi. Spossatezza, scompenso con affanno dal minimo sforzo. Gambe e piedi gonfi, febbricola, ed eritema cutaneo, vertigini, dolori reumatici atipici. Premetto, mai avuto prima tutto ciò. Mia mamma è pure la mamma della mia amica con seconda dose AstraZeneca, eruzione di Herpes Zoster, il fuoco di Sant'Antonio. Cuore e fibrillazione, ricovero in ospedale, problemi di coagulazione, terapia anticoagulante farmacologica e fra una settimana intervento di cardioversione al cuore. Ischemia cerebrale, persona sanissima, esami perfetti, mai avuto problemi di salute. Due giorni molto male, con febbre a 38 e disorientamento. Al terzo giorno ha avuto un grave attacco epilettico di cui non ha mai sofferto. Malore, caduto a terra con le gambe bloccate, fatica a respirare e bocca aperta paralizzata. Infiammazione e il distaccamento del pericardio, 20 giorni in ospedale e due mesi a casa. Doloroso e fastidioso Herpes Zoster, fuoco di Sant'Antonio. Dopo due mesi persiste il forte stato di stanchezza che mi impedisce la regolare deambulazione. Paralisi al viso totale, mal di testa così forte da impedirmi anche di sollevare la testa dal letto. Sindrome di Guignan Barret. Mal di testa atroce, impaccio motorio a gambe e braccia. Un'impresa eroica anche arrivare sorretta dal letto al bagno. Questi sono esseri umani, non sono percentuali numeriche e ce ne sono a centinaia di commenti del genere. Andate a vedere. E poi ci sono le foto che mostrano la devastazione che certe persone subiscono dopo la vaccinazione. Questa non è gente che fa propaganda no vax, questa è gente che era andata fiduciosa a vaccinarsi perché ci credeva e che adesso si ritrova in situazioni disperate. Quindi lo capite perché la gente si incazza. Si incazza con i medici che sono gli stessi che gli hanno detto facendogli il vaccino che non c'è nessun rischio e che adesso negano nella maggior parte dei casi che questi danni siano provocati dai vaccini. E si incazza con voi che continuate ogni giorno a raccontare alla favoletta che i vaccini sono sicuri e che le reazioni avverse sono rarissime. Se sono così rare, si chiede alla gente, come mai capitano tutte alle persone intorno a me? Se sono così rare, com'è che dovunque mi giro non sento altro che storie di questo tipo? Eccolo qua spiegato in due minuti il famoso problema dei no vax. Questa è semplicemente gente che si informa, che ha capito i rischi che corre e che preferisce rischiare di prendere il covid piuttosto che finire rovinata dalla vaccinazione. E voi dovete rispettare questa scelta invece di continuare a criminalizzarli e a trattarli come se fossero degli alieni. Ma dovete rispettarli davvero, non solo a parole. C'è infatti un'ultima questione che vorrei affrontare ed è una questione proprio di questi giorni, quella della presunta violenza dei no vax e del tentativo da parte vostra di criminalizzarli equiparandoli addirittura a dei terroristi. Ultimamente ci sono stati degli episodi di violenza, è vero, e voi giustamente li avete denunciati. Ci sta, perché la violenza, sia fisica che verbale, va sempre denunciata da qualunque parte provenga. Però appunto da qualunque parte provenga, non solo dai no vax. Quando Repubblica titola caccia ai non vaccinati e cheggiando fin troppo da vicino la caccia all'ebreo durante il fascismo, chi è che istiga la popolazione a mettersi gli uni contro gli altri? I no vax o voi giornalisti? Quando Burioni definisce i no vax dei sorci, voi dove eravate a denunciare la sua violenza verbale e a difendere il diritto di queste persone di essere considerate dei cittadini come tutti gli altri? Quando Selvaggia Lucarelli scrive come vorrei un virus che ti mangia gli organi in dieci minuti riducendoti a una poltiglia verdastra che sta in un bicchiere per vedere quanti inflessibili i no vax restano al mondo? Voi dove eravate a denunciare la sua violenza verbale, il suo odio ignorante che mirava chiaramente a spaccare in due la nazione? Niente, silenzio assoluto. Se fosse stato un no vax a pronunciare quelle parole contro uno di voi, ci avreste fatto su quattro puntate di un'ora ciascuna, come minimo ci avreste fatto su l'Iliade e l'Odissea messa insieme per denunciarlo pubblicamente. Invece lo ha fatto uno di voi e allora tutti zitti a far finta di niente. Siete degli ipocriti. Ecco cosa siete, dei miseri ipocriti. Quando Parenzo invitava i rider di Bologna a sputare nel cibo dei no vax. Voi cosa avete fatto? Non ricordo dei grossi articoli per denunciare questo odio inaccettabile da parte di un noto personaggio televisivo. Come mai? E' comico fra l'altro che sia lo stesso Parenzo che si domanda oggi da dove arrivi tutto questo odio sociale ad aver contribuito lui per prima a disseminarlo. Ma queste sono sottigliezze che a lui probabilmente sfuggono. Quando Cazzola in televisione due sere fa invoca addirittura Baba Beccaris e dice apertamente che per i manifestanti no vax ci vorrebbe il piombo, nessuno di voi lo ha criticato. La conduttrice avrebbe dovuto subito dissociarsi da un'affermazione del genere e togliergli la parola per il resto della serata come minimo. Invece ha fatto finta di niente, ha tirato avanti come se non fosse successo niente. Quindi chi è che fomenta il clima di odio? Chi è che lo facilita? Chi è che ha cercato fin dall'inizio di ghettizzare i no vax e di caratterizzarli in qualche modo come una razza inferiore, una razza di persone da disprezzare come se fossero dei cittadini di serie B? Temo che la risposta sia sempre la stessa, purtroppo. Voi giornalisti che usate due pesi e due misure. Quando Bassetti viene insultato per strada, ci fate su una menata che non finisce più e da due giorni che date spazio a Bassetti in televisione per lamentarsi degli insulti che ha preso. A tutte le ore del giorno e della notte lo vediamo. Ma quando Cazzola invita apertamente la polizia a sparare sui manifestanti, voi tutti zitti e fate finta di niente. Quindi piantatela di domandarvi con aria ingenua da dove arrivi questa profonda spaccatura sociale che stiamo vivendo oggi. L'avete creata voi giorno per giorno con le bugie quotidiane da una parte e fomentando l'odio in modo unilaterale dall'altra. Quindi adesso guardatevi allo specchio e fatevi un bel esame di coscienza se ancora vi resta un minimo di onestà intellettuale. Altrimenti poi non stupitevi se la gente vi incontra per strada e vi insulta pesantemente. Non si può stare contemporaneamente dalla parte della bugia e pretendere di essere rispettati.